A partire dal 9 settembre sarà a Padova la nuova destinazione del comandante provinciale dei Carabinieri di Nuro, Elvio Sabino Labagnara, che questa mattina ha salutato la stampa dopo due anni trascorsi alla guida del comando del capoluogo. Un'occasione per il colonnello Labagnara per presentare il bilancio dell'attività estiva sul territorio, che a differenza dello scorso anno non ha conosciuto le criticità legate ai grossi incendi boschivi. Fondamentale, accanto alle azioni di visibilità utili per rassicurare la cittadinanza, una presenza consistente e discreta di agenti in borghese. Dal primo di giugno al primo settembre, quindi a ieri, possiamo dire che siamo molto soddisfatti di come è andata quest'estate norese, non solo sulle coste ma in tutti i cento comuni a noi affidati, perché non abbiamo registrato né fatti reati particolarmente gravi né comunque problematiche dell'autorità della sicurezza pubblica. Abbiamo lavorato sostanzialmente intensamente ma con entusiasmo, anche grazie agli innesti dei nuovi carabinieri e dei nuovi marescialli che ci sono stati assegnati nel corso appunto dei mesi di luglio e di agosto. E da lunedì prossimo il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Nuro sarà il colonnello Gennaro Cassese, che lascia la guida del gruppo carabinieri di Rho alle porte di Milano. Nel lasciargli il comando, la bagnara porta con sé, dall'esperienza sarda, un bagaglio di insegnamenti e ricordi che fondono professione e privato. Diciamo le due cose si sono fuse, perché il quotidiano qui è stato sempre molto intenso. Io dirò sempre sostanzialmente che è l'incarico di comandante provinciale in questa terra, in questa provincia, e ritengo il massimo che potessi desiderare. Non lo faccio per piageria o per salutarvi, ma perché effettivamente ho potuto avere la percezione e l'onore di uno staff nutrito di ufficiali e di personale, circa mille uomini, che non è scontato poter dirigere nel corso della propria carriera e in una realtà in cui c'è una popolazione veramente unica.